Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati minori Cappuccini, oggi qui con la rivista Voce di Padre Pio, luglio-agosto 2023, perché vogliamo parlarvi di una storia che ci racconta proprio la rivista Voce di Padre Pio in questo numero, dedicata a Luisa Piccareta. È una bellissima storia. Padre Pio ad una famiglia di Corato, dove era nativa Luisa Piccareta, disse perché venite da me se nel vostro paese avete Luisa Piccareta? Era la risposta di Padre Pio, che oltre a non conoscere Luisa, infatti i due non si sono mai incontrati, aveva stima di lei, ne leggeva i suoi scritti. Quindi di questa donna che era vittima di espiazione, consumata sull'altare quotidiano del suo letto di dolore, Luisa era una donna che viveva proprio la volontà di Dio. L'Eucarestia era la passione principale, predominante, e un giorno ha una visione. Gesù sulla via del Calvario la fissa, le chiede aiuto, anima, aiutami. Nasce così in lei questo desiderio insaziabile di patire con Gesù le sue sofferenze per la salvezza delle anime. A 16 anni fa voto di offrirsi come vittima di espiazione. Cominciano così gli attacchi del demonio e anche le sofferenze fisiche, con la perdita di sensi, il successivo fenomeno dell'impietrimento, durante il quale ha anche delle visioni di Gesù, che la sceglie come vittima. Viene interpellato un religioso agostiniano che visita l'inferma e le traccia un segno di croce sulla fronte. Ed è il sacerdote a farlo. Su quel corpo impietrito, immobile, lei riusciva a muovere a stento gli occhi per capire cosa stava accadendo. Fra la meraviglia dei presenti, il corpo di Luisa riacquista le sue normali funzioni. Ogni giorno viene chiamato un sacerdote qualsiasi che con un segno di croce la riporta così alla normalità. Luisa diventa terziaria dominicana con il nome di Suor Maddalena nella cripta del santuario di Santa Maria Greca che oggi custodisce le sue spoglie. Don Michele, il suo padre spirituale, si accorge che questa donna vive solo della volontà di Dio e dal 1889 le dà il permesso di rimanere a letto, vivere questa sua sofferenza dove rimane seduta, pensate un po' ininterrottamente, per circa 59 anni fino alla morte. Il nuovo confessore, Don Gennaro, le ordina di mettere per iscritto tutto quello che avviene in lei, ovvero, vado sul virgolettato, mettere per iscritto tutto ciò che la grazia divina opera in te. E allora, nonostante avesse frequentato soltanto la prima elementare, Luisa comincia nel 1889, pensate, a scrivere il suo diario, un manoscritto di 36 volumi in 10.000 pagine. All'inizio del Novecento incontra anche Sant'Annibale Maria di Francia che diventa il suo confessore straordinario e censore anche dei suoi scritti, i quali vengono esaminati regolarmente approvati dalle autorità ecclesiastiche. Don Annibale pubblica anche l'Orologio della Passione, stampato, pensate un po', in cinque edizioni. E qui arriva Padre Pio. L'ho letto quattro volte. Era questo il commento che fece Padre Pio ad un suo figlio spirituale, Federico Abres, che gli parlò di Luisa e che lui visitava regolarmente e poi aggiunse questo Padre Pio. Il prossimo è ancora più bello. Padre Pio fece riferimento ad un libro che stava per essere stampato, di cui nessuno sapeva nulla. Era quello sulla Madonna, sulla Vergine, la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. Inoltre, questo è da aggiungere che Padre Pio è innamorato dei suoi scritti, li consiglia a tutti. Però che cosa succede? Dieci anni dopo, 1938, per disposizione del Santo Uffizio, Luisa deve lasciare il convento dove era stata ospitata proprio da Don Alnibale e trascorrere così gli ultimi anni della sua vita, gli ultimi nove anni, assistita amorevolmente dalla sorella Angelina. I suoi scritti vengono anche condannati dalla Chiesa, messi all'indice. Luisa si rimette però totalmente all'obbedienza delle autorite ecclesiastiche, consentendo anche all'incaricato romano di recuperare tutti i suoi scritti. Infatti oggi sono conservati e custoditi negli archivi vaticani. Quando è stata condannata dal Santo Uffizio e le sue opere sono state messe nell'indice, Padre Pio le ha mandato questo messaggio, vado sul virgolettato, proprio attraverso Federico Abresch. Dille che i Santi servono per il bene delle anime ma la loro sofferenza non conosce limiti. Dopo qualche giorno Padre Pio visita Luisa in bilocazione e sta a colloquio con lei per circa due ore. I vicini di casa tra l'altro si accorgono di un frate che lascia a casa sua. I due quindi si conoscono da tempo senza essersi mai incontrati perché Luisa è confinata nel suo letto a Corato e Padre Pio in questo convento, qui a San Giovanni Rotondo. Anche Luisa parla con venerazione e rispetto di Padre Pio descrivendolo come un vero uomo di Dio che ha ancora grandi sofferenze da affrontare per il bene delle anime. Siamo negli anni trenta. A Rosaria Bucci proprio Padre Pio ha chiesto spesso come sta Luisa Rosaria. Grazie figlia mia per esserti ricordata di me, dice Luisa a Rosaria. Quando sei andata proprio da Padre Pio, dilli di pregare per me che ne ho un grande bisogno. Diverse le espressioni usate anche dalla mistica di Corato verso Padre Pio. Carissimo figlio, perché non dire al Santo Padre Pio di pregare in modo specialissimo che si faccia conoscere la divina volontà. Di al Padre Pio che preghi il Signore che venga il regno della sua volontà se noi vogliamo la pace. Luisa Piccarreta muore nel 47, ha 81 anni. Muore all'alba, prima del risveglio, per cui rimane seduta sul letto nella sua stessa posizione avuta per tutta la vita e pertanto non è stato possibile così diciamo stenderla. E quindi anche al cimitero venne portata in questa posizione quasi da seduta con una tra virgolette bara che era stata realizzata ad hoc per l'occasione. E dopo la sua morte, quando si pensò che tutto era ormai finito, ecco ricordiamo che oggi Luisa è serva di Dio, sempre la signora Bucci, Rosaria, che si affidava alle preghiere di Padre Pio e chiedeva appunto anche che ormai era tutto finito per questa per questa donna di Corato, si rivolge a Padre Pio che nel dialetto Beneventano le dice Rosà, ovvero Rosaria, vannanz, vannanz, ca Luisa je gran, è grande, e un un sarachin di Luisa, cioè il mondo sarà pieno di Luisa. Infatti nel 94 si è aperta l'inchiesta diocesana che si è chiusa nel 2005 e oggi la fama di santità della serva di Dio, Luisa Piccareta di Corato e oltre che presente in varie città italiane anche all'estero dove sono stati diffusi tutti i suoi scritti, in particolare negli Stati Uniti e nell'America centrale, opera da parte di immigrati italiani in seguito anche ad opera di fedeli che ne hanno conosciuto la spiritualità e Padre Pio appunto aveva diciamo tra virgolette profetizzato che il mondo appunto sarà piena di Luisa. E ce ne parla proprio la rivista Voce di Padre Pio in questo numero, luglio-agosto 2023.